Il vero accaderebbe a rifare due libri e si dicevano un gran meraviglioso, il loro sentito la zona ULIS, anche di questa canzone diventò lì che è vissuto, andatela a sentire, vedete a tutti. Papà, ma veramente con l'ultimo non si può suonare? Sì, è vero, però qualcosa possiamo fare. Lo facciamo? Certo. Carote, carote, solo carote, le regalo a mio nipote diventano banconote, le scuote le percuote, cellule eucariote, mica frigoriferi, parliamo di carote. Arancione, minestrone, arancione, minestrone, la mia devozione solo alle carote, arrivo nella galleria e invece un sacerdote, carote, carote, solo carote, le regalo a mio nipote diventano banconote, le scuote, le percuote, cellule eucariote, mica frigoriferi, parliamo di carote, vedi il mio nome, diventi un mozzigote, cosa sei, che ne sai, vedo solo carote, le rime a mio nipote diventano banconote, le scuote, le percuote, cellule eucariote, mica frigoriferi, parliamo di carote, nuela, citofoni, citofoni, nuela. Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima